Sbricate il famoso scarico Sbricate Tanto il documentale non c'è sta più E com'è che c'è sta più? Non c'è sta più, ho attaccato il disco e non se legge E perché non se legge? Sarà un'unità del posto, che ne so, posto digitale Ma non era meglio girare in pellicola? Eh, alla pellicola Eh sì, alla pellicola, l'ho detto mille volte, fammelo in pellicola Per me alla pellicola era meglio Ma come fanno? E la soluzione ce l'avevi Ah, e quale sarebbe? Guarda un po' sotto scolana che c'è Ma che sta a dire? Paro paro, sotto scolana Eh sì Ma che ha questo pallino rosso? Questo è registrato Sì 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 È da stamattina Ma raga io devo chiudere Devo chiudere L'ultima volta L'ultima volta L'ultima volta Dai raga, fammola bene Mi cerco un attimo i buchi degli occhi veri Così Io ce l'ho più sopra I occhi? Sì, ecco dietro Vai ce l'ho, ce l'ho E... Attge Ah... Ah! 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 No, 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 no. Non, no, 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 no. Il ha fatto due anni che è arrivato, ma quando è arrivato, ha capito che ciò che ha fatto è molto male. Anche in questi ultimi giorni, quando aveva un caso di recrutamento, di ecogard, la persona era anche candidata. Ho usato, ho tornato la situazione, da una campagna molto triste, in una campagna di sensitizzazione. Quindi, quello che ho fatto è che ho fatto, dove l'arriamo a un'arriamo, dove l'arriamo a un'arriamo. E abbiamo portato la gara da un'arriamo all'arriamo all'arriamo alla vicenda, in fronte di tutta la comunità. Più più di 1000 persone venivano al progetto, per vedere la gara. E mi pensavo, non mi credo che questi gara li hanno parecchi come noi. Quindi, come si può che un'arriamo a un'arriamo? Quindi, è stato molto bello sentire le persone della comunità reagire in questo modo. E tutti conoscono che le persone sono più aware di ciò che facciamo in l'arriamo. E ciò che facciamo in l'arriamo a un'arriamo. È un processo che dovessi fare l'arriamo a un'arriamo a un'arriamo. Quindi è semplicemente come seguire i gorilassi ogni giorno, rendendo loro capire che gli uomini sono parte dell'ambiente, e questo permette per noi di arrivare molto vicino a loro. Non ci sono jobi, le persone stagionano animali e li uccionano, quindi invece di uccionare le gorilassi, le persone possono usare le gorilassi per ottenere un'evoluzione per loro vita e per loro. Non ci sono anche i malabici. Siamo iniziando a fare un'escalza, quindi ci sono iniziato a andare a andare in un'escalza, Poi ci aspettiamo per il signale del altro gruppo, prima di andare a fare, Quindi non siamo completamente perduti. Le gorillas in una foresta così, è molto difficile da guardare. Solo i Bayaka, credo che in tutta questa regione, hanno questa esperienza, questa esperienza. In realtà questo programma non potrebbe mai succedere senza i Bayaka. Se il gruppo non è ancora trovato, non c'è un po' di qui. Quindi quando si senti una nuova in un paio, si si senti un po' di qui, se senti un po' di qui, si senti un po' di qui, si senti un po' di qui, si senti un po' di qui. Quindi è perché di generazione per generazione, i loro i bambini vivono sempre in la foresta, quindi insegnano loro i bambini, come vivono in la foresta, come attraggere animali, perché erano i bambini, quindi sempre attraggere animali per la vita. Vogli che si senti un po' di più, è un po' di qui. Oggi, hanno usato la stessa esperienza che avevano usato nel passato, invece di attraverso e proteggere gli animali. Il giù che non era più di braconi, io penso che s'abbò prendo un po' di campi arriva. Per l'instant, dobbiamo continuare a incontrare le gorille, abbiamo bisogno di la lotta contro le braconniers, abbiamo bisogno, non possiamo ne pensare. Marchiamo, 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 noi abbiamo dei familiari, noi abbiamo dei detenuti, siamo la compagnie, siamo la compagnie. Un, due, opo, go, a la droga. Vi sapete che il lavoro di luce anti braconniers è un lavoro molto difficile. Le più spesso, quando i braconniers partono in forza, hanno magari due o tre charge, e hanno una arma automata. La loro squadra è ben armata, fino all'interno. La loro squadra è molto più efficace che i nostri. Penso che la maggior parte delle persone con cui lavoriamo avevano portato. Qua loro vita conoscevano, è di hampire gli animali. Quando io parto per la patria, ho apprenduto molti braconniers, e da lì, ho sensibilizzato, ho portato a la conservazione. La mia squadra è una persona che ho apprenduto in forza, e ho sensibilizzato. Il è braconni, ho sensibilizzato. Ora, il lavoro con la mia squadra. Ma ci sono delle persone che mi hanno questionato perché potete protegere i gori e gli elefanti? Qu'è lo farà? Qu'è lo farà? Qu'è lo farà se lo farà? Qu'è lo farà se lo farà? Qu'è lo farà se? Qu'è lo farà se lo farà? tutti questi brahman, noi siamo brahman e Dio. Io continuo sempre a guardare questi gori. Non posso capire che i braconini estrangi e i luoghi vieno a destruire questi gori. Questo è l'epare. Sanga sanga è un tutto. Non possiamo differenciare, non possiamo protegere i gori, i macumba. Non possiamo protegere i gori, non possiamo protegere i gori. Credo che uno dei principi, uno dei principi di lavorare qui è stato quando sapevamo che la bambina era bambina, e poi vediamo che aveva bambina. E' stato detto, ah, sì, buono, abbiamo un nuovo bambino, un gorilla. E poi qualcuno dice, oh, io vedo due uomini. Questo è successo quando c'erano solo 4 gorillas in questo gruppo, e abbiamo pensato che era il fine. e io mi ricordo che ero molto felice. Abbiamo mai visto un gori in nostro corso. Questo programma è stato continuato per 18 anni, e questo è il primo anno che abbiamo mai avuto un gori. Abbiamo sempre pensato che un giorno passiamo e non vediamo più un gori. ma se possono dare alo per i gori, significa che possono poterciare a conto con la miglioranza della popolazione che abbiamo. Quindi è stato un bel momento per me e per me, per tutti i miei team. Per me è un po' appetito. Per me è un po' appetito. Per me è un po' appetito.